Ciao cari amici del blog.it, un saluto da Andrea Gliassi Bulgaro, andiamo oggi a conoscere un'applicazione abbastanza interessante che Microsoft ha rilasciato nel Play Store per quanto riguarda la piattaforma Android, ma che è presente anche nello store Microsoft per quanto riguarda Windows 8 e Windows Phone 8. Si tratta di Xbox Smart Glass, un'applicazione per andare a gestire il proprio account Xbox Live e anche per andare a controllare tramite il proprio device, in questo caso stiamo parlando di device Android, la propria Xbox 360. Accediamo a Xbox Smart Glass, questa qui è la pagina iniziale dove vengono visualizzate le applicazioni recenti utilizzate sulla propria Xbox, cos'è in esecuzione su Xbox, al momento non è disponibile perché non sto eseguendo niente, e poi la possibilità di accedere e utilizzare Xbox Smart Glass come telecomando. Andando verso destra troviamo la parte social per quanto riguarda Xbox, ovvero il nostro profilo, questo qui per esempio è il mio avatar, qua troviamo le impostazioni del mio account, i miei messaggi, poi qua possiamo accedere agli amici, possiamo anche andare a interagire sul mio avatar per modificarlo, qua invece troviamo le applicazioni e i giochi recentemente utilizzati non solo su Xbox 360 ma anche su Xbox Game per quanto riguarda la parte PC oppure se possediamo un device Windows Phone 8 e utilizziamo un gioco su di questo. Qui troviamo invece una specie di vetrina per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda video, giochi e anche musica, e poi troviamo invece andando più a sinistra della pagina iniziale troviamo la ricerca di Bing. Nelle impostazioni troviamo ovviamente tornare nella pagina iniziale, accedere come telecomando che è anche come icona nella pagina iniziale, fare un aggiornare oppure andare nelle impostazioni che sono relative ai suoni, all'esecuzione automatica di Smart Glass quando si accede e poi anche per quanto riguarda il disconnettere il device. Tornando indietro adesso andiamo a vedere quello che è un po' la funzione più interessante di questa applicazione ovvero la possibilità di interagire con l'Xbox 360 utilizzando il nostro device Android come un telecomando. Eccoci qui davanti allo schermo della mia tv, diciamo lo schermo dedicato alla mia 360, possiamo vedere che accedendo alla funzione telecomando in Xbox Smart Glass ci ritroviamo in questa schermata qua, dove qua in alto troviamo un'iconcina per uscire dalla funzione, troviamo i tasti B, Y e X classici del joypad Xbox mentre il tasto A è semplicemente facendo il tap nella parte vuota qua, centrale che può essere utilizzata come potete vedere che sto interagendo sullo schermo dietro, può essere utilizzata come fosse un trackpad di un computer. Qua in basso invece c'è un tasto che ci permette di accedere alla guida, accedere al controller che è la schermata che vedevamo prima, oppure accedere a tastiera o browser dove browser è inteso come puntatore del mouse. Queste tastiere e browser si possono visualizzare a schermo solo nelle situazioni in cui è necessario o comunque è utile utilizzarle come per esempio quando si utilizza il Internet Explorer su Xbox 360. Andiamo subito a vederlo per fare una prova, adesso sto accedendo a Internet Explorer e come vediamo qua ci troviamo nella schermata dei preferiti e sullo schermo posso andare a direttamente a digitare da telefono l'indirizzo a cui voglio accedere, quindi proviamo a accedere ad AndroidBlock.it ecco che stiamo accedendo al sito e qua vedete che io il telefono lo sto usando come fosse un trackpad, quindi come mouse per spostare il puntatore e poter utilizzare al meglio il browser della nostra Xbox 360. Poi come dicevo prima il tasto qua con le doppie freccette mi permette di accedere al tasti del controller oppure a ritornare sulla gestione del puntatore. Con il tasto centrale ci permette di visualizzare sul browser del telefono quello che stiamo visualizzando sul nostro browser dell'Xbox e poi tornando indietro verrà fatto automaticamente il login per quanto riguarda Xbox Smart Glass. Il tasto qua ci permette anche di accedere rapidamente alle funzioni per quanto riguarda la ricerca la ricerca e i contenuti per quanto riguarda preferiti, recenti o in primo piano e quindi diciamo che è un software di gestione molto interessante per quanto riguarda la possibilità di interagire con la nostra 360 utilizzando il nostro smartphone comodamente come fosse un telecomando, un trackpad, una tastiera e quant'altro. Quindi è un'applicazione ovviamente gratuita presente nel Play Store che per chi come me è possessore di un device Android e di un Xbox 360 può essere decisamente interessante. Direi che per questo breve video presentativo di Xbox Smart Glass è anche tutto. Un saluto a voi cari amici di Androidblog.it mi stavo impappinando proprio sulla fine. Ciao a tutti!